Per ripartire la Sicilia dobbiamo intanto capire verso dove dobbiamo andare e secondo me il futuro della Sicilia è nel Mediterraneo e poi dobbiamo renderci conto che la battaglia, la sfida si vince sul terreno della competizione innovativa. Il digitale, consentire alle nostre imprese di essere adeguate a standard europei. Ecco perché oggi qui a Paternò ho trovato un'azienda di servizi all'avanguardia, moderna, con un pathos che coinvolge management e gli operatori. Sono veramente contento di poter dire che in Sicilia già siamo sulla buona strada.